Siamo qui ad entrarci nel mondo delle tasse come al solito, lo facciamo con i nostri ospiti di questa sera che sono Anna Maria Scullica, direttore di testate economiche del gruppo Le Fonti, già direttrice del giornale delle assicurazioni benvenuta, grazie, buonasera e Massimo Quezel, imprenditore, presidente e fondatore di Studio Blu, responsabilità e esercimento che è il primo trust di studi che si occupa dei danneggiati delle assicurazioni e Quezel è qui anche in versione autore del libro Assicurazione e delinquere, confessioni di un insider in realtà è uno scavo psicologico e investigativo nel mondo delle assicurazioni perché proprio di questo parliamo qui oggi, parliamo di assicurazioni le assicurazioni ti coprono tutto tranne quello che ti succede, diceva una volta Arthur Block che era l'autore delle leggi di Murphy, in realtà è vero, le assicurazioni sulla franchigia parlando poi di rischi aleatori, polizzi, insomma tutto il mondo delle assicurazioni è un mondo che incide molto più di quanto si pensi sulla vita dei cittadini Reteconomy, la nuova visione dell'economia